Ma cosa metti già gli occhiali? Per vederti meglio. Ragazzi, cosa mi hai preso? Siamo tornati all'antico ragazzi. Allora, uno da dieci, mi raccomando, massimo dieci una volta al mese, o la va o la spacca, il miliardario. Sono andato a lavare i piatti, sono andato a lavare i piatti due giorni per tollerate vinci. Bisogna cominciare? Cominciamo. Mi raccomando, se non vinco stavola ti spacco il telefono. Aspetta, non è mio quello lì, è il tuo. Primo numero. 25, ragazzi, 25 è Natale, giorno di Natale. Natale, benissimo. Natalino. Dai Natalino. 55 è il pitone. Benissimo. 30. Oh, il giorno del nostro matrimonio ci porta fortuna. 30 è il girovita. Il girovita. 43. Oh, lo zio giovanino. Il seno. Il seno. 21. Non dirò nessuno. Adesso il bonus non do. Jolly lo teniamo di scorta. Dai, vai. Allora, primo numero. Forza, ragazzi. Di scoprire il prezzo, eh. No, parto dall'altro perché... Guardali. Sì, 32. 32. Il pitone. Senta, ancora. 15. 15 sono i... La menopausa. La menopausa. Brava. 45. L'andropausa. Ecco, mi ricordo io. 31. Uh, è il barbecue. Il barbecue. 56. Oh, i miei anni. 56 è la costata. Benissimo. 24. Un zio felice. Un zio felice. 23. Il giorno del mio compleanno. Porca misere, il reggiseno. 46. Valentino Rossi. Valentino Rossi. 17. La medela con fuori le tette. Ancora, sempre. 27, uguale come prima. Come prima. 2 ne ha. 44. Porca per un pelo, ragazzi. 44 abbiamo... 44 era il vimbrule. 34. No, zia Margherita. Uh, ci abbiamo l'invertito qua, l'inversibile. Invertibile. 13. 13. Il portafortuna. Il portinaio. 53. Il mangia... è spicca sass. Spica sass. 51. C'abbiamo il 21, ragazzi. Doi, trovami nel meno 1. 47. Il morto che parla. 52. 12. La lingua. 22. I gemelli. I gemelli. 40. Il pitoc. 20. Non è che sta. Niente, ragazzi. Non dire parolacce. Eh, questa volta è andata così, eh. È andata via così. È andata via di traverso, ragazzi. Non dire parolacce. Eh, stavolta è così. Andiamo di là. Andiamo di là. Arriva l'acqua santa qua. Periluvio. Ma che faccio? Non voglio. Niente, ragazzi. È già la seconda che andiamo male, eh. Anche il miglior dallo, niente. Porti sfiga, porta sfiga, signorina qua. Ma che maglia leopardata, diciamo? Eh, quella lì. Per la primavera. È andata a prendere lo zoo safari che era là che aveva magliare i leoni. Ma è un po' in là che sono dicendo. Te stessi è decentrata nel cervello, è decentrata, mica da ridere, ragazzi. Allora, niente. Ragazzi, questa volta niente, eh. Anche la volta prima, eh. Anche la volta prima, come facciamo? Non so. Consigliateci cosa prendere. Io adesso vado là e gli spacco fuori tutto. Dai. Ma noi per termi sempre una volta al mese, massimo 10 euro, ci proveremo prima poi a fare il botto, eh. Quassimato vado là e gli compro un pacco così di gratinici. Beh, facciamo un pacco. Quante ne prendiamo? Sì, no. Non si può fare. Non si può fare, non si può fare. Non si può fare. Mi raccomando che non diventi un vizio, eh. Non si fa. Dai, saluta. Va bene, niente. Alla prossima. È stato bello stare in compagnia con voi. Adesso un abbraccione, un abbraccione. 10 euro sono scombolate dal barcone. E via. Sono rimasta malissimo. Eh, va da via. Eh, va bene. Non mi sono brutta le male, eh. La prossima volta facciamo una bella ripresa mentre facciamo l'aperitio con uno bello spritz, meglio. Dai, saluta. 10 euro, almeno ci ribeviamo e ci rimangiamo. Ciao.